Buon concorso di pubblico, quindi c'è qualcosa sicuramente da apprezzare di questa iniziativa. Sì, questa sera presentavamo il libro relativo alla quarta edizione, i racconti finalisti della quarta edizione e in più il cortometraggio tratto appunto da un racconto disegnato vincitore dalla giuria del premio della scorsa edizione e abbiamo proiettato questa sera questo cortometraggio. Diamo un po' un resoconto di come funziona questo premio letterario. Il premio letterario è diciamo articolato in due sezioni, una sezione ai giovani dai 15 ai 21 anni ed una invece per adulti dai 22 anni in poi. Attualmente è in corso la quinta edizione, la cui scadenza è per il 31 di maggio e ovviamente questi racconti poi vengono letti da un comitato di lettori, nella scorsa edizione ne hanno partecipato circa un centinaio e selezionano i cinque finalisti per ciascuna sezione che vengono poi letti da una giuria appositamente nominata dagli organizzatori del premio e poi per settembre pensiamo di fare la premiazione per il prossimo settembre. Racconti di vario tipo, quindi anche i partecipanti sono di varietà? Sì, di varietà, il tema è libero ovviamente e l'aspetto fondamentale è che provengono da tutte le parti d'Italia, quindi abbraccia un po' tutta la penisola. Nella scorsa edizione sono arrivati ben 270 racconti, quindi c'è stato proprio un lavoro di filtro da parte dei lettori stessi nel leggere questi racconti. I temi principali che hanno affrontato gli autori quali sono stati? I temi principali sono per lo più il rapporto di amicizia tra i ragazzi, ancora viaggi, molti viaggi o ancora molto genere thriller, racconti del terrore, molti specialmente nella sezione ragazzi e poi ci sono anche stati dei racconti che riguardavano alcune situazioni in diverse parti del mondo tipo in Algeria tra le quali appunto il racconto vincitore o ancora in Afghanistan quindi hanno abbracciato diversi campi diciamo Le attenzioni dei giovani sono rivolte anche non più soltanto a livello locale ma si espandono nel mondo forse anche con i mezzi multimediali nuovi Sì esatto, utilizzando appunto i mail attraverso l'internet eccetera quindi hanno maggior possibilità di comunicare tra l'altro lo stesso premio alla base del premio vi è proprio la possibilità da parte dei ragazzi di comunicare tra loro quindi la scrittura come strumento per comunicare in più abbiamo aggiunto il cortometraggio che con suoni e immagini trasforma quindi queste parole Grazie 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 Grazie